Se mi mozzassero una mano, mi rimarrebbero ancora abbastanza dita per contare le persone che stimo. Ovviamente quelle che stimo, non quelle a cui voglio bene, che li è molto diverso. Per quelle mi basterebbe un dito solo. Scherzo ovviamente. Ma comunque provare stima per una persona è una cosa complessa, è diverso dall'affetto. Tempo fa ero in macchina con una di queste persone, un mio amico, e parlavamo di omosessualità, preconcetti, pregiudizi. E lui mi diceva, Luca tu non capisci che alle volte anche le questioni della vita quotidiana sono diverse. Perché ad esempio se tu entri in un locale e ti piace una ragazza, nulla ti vieta di andare e provarci. Certo con i modi, ma non può succedere nulla. Al contrario se lo faccio io e sbaglio il bersaglio, non fraintendetemi, quella persona potrebbe reagire anche molto male. E questo chiaramente blocca nelle relazioni sociali. Anche io lo guardai con una faccia molto interrogativa e lui non mi diede neanche la possibilità di aprire bocca. Perché mi guardò con una faccia mista fra lo schifo e il compassionevole. È come guardi un cane che ti fa la cacca per l'ennesima volta sul tappeto e lo guardi. Ma perché non ce la fai a essere un po' meglio di così? E mi disse, perché noi fra di noi ci riconosciamo, giusto? È questo quello che pensi? In quel momento avrei pagato oro per potermi sotterrare, scomparire dalla faccia del pianeta. Più che altro perché avevo dimostrato da una persona che stimo molto la mia pochezza. Non c'è altro modo di definirla. Però mi feci una promessa e dissi, da questo momento mai più mi deve capitare di avere un preconcetto, men che meno un pregiudizio, ma già un preconcetto, riguardo qualcosa che magari non ho approfondito. In realtà non è che ci sono sempre riuscito, ma alle volte hai un preconcetto. Il problema è che non ti rendi neanche conto di averlo. Però quantomeno nel momento in cui mi rendo conto di avere un preconcetto, immediatamente lo cancello e mi do la possibilità di analizzare. Ed è proprio questo il problema dei preconcetti e dei pregiudizi, che sono delle idee che noi abbiamo, che diamo per scontate, delle quali siamo totalmente sicuri, ma in realtà non le abbiamo mai analizzate e non ci abbiamo mai riflettuto approfonditamente. Ma comunque non è questa la lezione più importante, perché la lezione più importante me la diede il mio amico, concludendo il discorso con la sua classica crudezza e chiedendomi e da che cavolo ci dovremmo riconoscere dai tacchi?